Peppa! E le tue scarpe? Oh, le ho perse! Beh, sono certa che le ritroveremo. Probabilmente dovremo provare a cercarle in giardino. Sì! Tutti cercano le scarpe di Peppa. Mamma Pig le cerca nell'aiuola, ma le scarpe di Peppa non ci sono. Papà Pig le cerca nella carriola, ma le scarpe di Peppa non ci sono. Peppa e George le cercano dentro i vasi, ma non sono neanche lì. Abbiamo cercato ovunque, ma le tue scarpe Peppa proprio non si trovano. Peppa ha smarrito le scarpe. E adesso come faccio senza le scarpe? Povera Peppa, le tue scarpe erano piuttosto vecchie. Te ne compreremo un nuovo paio. Le possiamo comprare rosse, mamma? Ma certo che possiamo! George! Avrò un paio di scarpe rosse, che bello!